Com'è la mia soddisfazione? Esprimo la mia soddisfazione perché oggi arriviamo in tempi estremamente rapidi, così come ce l'avamo impegnati a fare, a votare l'approvazione definitiva dell'insediamento di Ikea sul nostro territorio. Io credo che questo sia il frutto di un lavoro che le istituzioni, sia a livello di città di Pisa, sia a livello regionale, provinciale, hanno fatto. Per cercare veramente di non perdere questa occasione di sviluppo e di crescita da un punto di vista occupazionale della nostra città. Nel momento stesso in cui ci siamo resi conto che l'insediamento a Vecchiano, così come in origine Ikea aveva scelto, non era realizzabile, c'è stato a partire dal sindaco, ma con l'appoggio immediato anche del presidente della Regione Rossi, un impegno per cercare di fare in modo che questa grande occasione fosse comunque recuperata per il nostro territorio. Questo in parte c'è stato anche, voglio ricordare, un intervento da parte del Consiglio Comunale, anche trasversalmente. Ricordo che il primo firmatario di un ordine del giorno, che poi anche noi abbiamo approvato e sottoscritto, era il consigliere Buscemi del PDL. Credo che veramente quando si parla di queste occasioni vadano riconosciuti i meriti. Credo che sicuramente i meriti del sindaco Filippeschi, ma ripeto anche del presidente della Regione, su questo siano grandi. Credo che la città su questo sia tutta d'accordo, sia compatta e questo le lo riconosca. Sinceramente non capisco alcuni distinguo che sono emersi nel corso della discussione in Consiglio Comunale, non tanto da parte di chi fin dall'inizio aveva manifestato la propria contrarietà, ma da parte di chi continua a dire che è d'accordo a Ikea, però non vuole votare questo semplicemente per non voler riconoscere che un lavoro da parte di questa amministrazione è stato fatto. Ma io credo che noi non abbiamo bisogno del riconoscimento che viene da parte delle forze politiche, credo che il riconoscimento più grande viene da parte di tutti i cittadini, da parte della città, che forse su questo argomento, come forse su pochi altri, è tutta compatta. Credo che in questo momento sia veramente un momento di grande soddisfazione per tutta la città.